ci servono altri minerali ma è pieno di rocce qui non hai abbastanza minerali abbiamo bisogno di... ehi blocco dei ritornimenti altri sorveglianti per favore servono altri sorveglianti i minerali scarseggiano sei già al massimo di lavoratori minerali insufficienti ci servono altri minerali ma è pieno di rocce qui non hai abbastanza minerali ma è giapponese la riuscire a fare la riuscire a fare la riuscire a farla buongiorno scatelo uno e moderno Grazie a tutti 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 LOL, non puoi farlo? LOL, non puoi farlo? 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 Giacimento di minerali esaurito La regina è pronto Ora tocca a lei OMG, è un po' Non puoi farlo? Giacimento di minerali esaurito Spero che è un po' La regina 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 è un po' Giacimento di minerali esaurito? Hai un po' la regina è un po' la regina Anche' un po' la regina è un po' la regina è un po' la regina è un po' la regina spoiler No M.G., genera altri sorveglianti Ehi, blocco dei rifornimenti? Altri sorveglianti, per favore Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.